Salve a tutti amici dell'Asgard, volevo rispondere solo al video messaggio di Achille Mazzola con un altro video messaggio, rispondendogli subito che io non ho mai offeso nessuno, non ho mai fatto uso di calugne o cose del genere. Mi ha fatto molto piacere il video messaggio di Achille, le sue proposte sono buone ma io ne ho molte altre. Ad esempio, in quadra cameraman, spostare tutti i cassonetti e fare una dependance con dei tavolini, cose del genere e innovare anche, non so, questo l'Asgard 2. Insomma, tutte cose che porteranno benessere all'Asgard. Volevo anche far diminuire il costo delle partite di Freccette facendo pagare tutto a Renzo perché è giusto, perché Renzo deve voler bene ai clienti di Serie B. Noi siamo tutti clienti di Serie B e vogliamo che resti così ma ci vuole qualcosa di più, Renzo ci deve dare di più. E io sono per voi, io combatterò per voi per farvi avere di più da Renzo. Ecco, mi dispiace solo che adesso dovrò partire per un mese e non ci vedremo per un mese ma lo sto facendo per voi. Farò una campagna in Francia, Spagna, Portogallo dove vedrò i posti come sono là, mi studierò cose nuove e le porterò qui solo per voi. Ecco, comunque faccio un in bocca al lupo a tutti gli altri candidati anche se credo di essere il migliore. Vi saluto. Grazie. Grazie.